Il Comunitero ha avviato la macchina organizzativa per pianificare il calendario degli eventi natalizi e capire come gestire le criticità energetiche. L'obiettivo è quello di riprendere il format natalizio pre-covid con concerti ed eventi all'aperto liberi da restrizioni e assicurare luminari esclusivamente a LED in centro e pista di pattinaggio in Piazza Martiri della Libertà. È chiaro che tutto dovrà essere oggi rapportato alla situazione che stiamo vivendo. Qualche giorno fa abbiamo presieduto un direttivo dell'Anci, dell'Anci Abruzzo, dove con i sindaci abbiamo condiviso azioni, misure e soprattutto richieste al Governo per la copertura integrale dei costi delle bollette che stanno mettendo a repentaglio i bilanci comunali. Lei pensi che, stando ai numeri e alle proiezioni, noi abbiamo bisogno e chiediamo al nuovo Governo ancora un miliardo e 800 milioni di euro per la copertura integrale dei costi delle bollette dei comuni, per non mettere a repentaglio in discussione servizi e quindi diritti dei cittadini. E poi c'è la fase ovviamente del Natale che si colloca all'interno delle misure da adottare, anche comportamentali e amministrative da parte dei comuni. L'obiettivo è quello di rendere la città di Teramo frequentata durante le festività in modo da sostenere le attività commerciali, un cartellone che potrebbe partire prima rispetto agli anni passati. L'idea è di riproporre accanto ad eventi culturali e ludici circoscritti anche tre grandi concerti in piazza al ridosso del Capodanno, confermato anche il grande albero di Natale in Piazza Martiri. Ma noi lavoriamo appunto per confermare un Natale di rivitalizzazione come negli ultimi anni, cercheremo di capire anche quali saranno i costi previsti e soprattutto però tutto questo è collegato a quello che dicevo all'inizio. Le città, la nostra città, tutte le città del cratere, ma direi le città che comunque soprattutto in questo momento stanno vivendo una fase di rinascita e di ripresa, hanno il diritto con i cittadini, i commercianti e tutti di poter continuare a vivere questa fase di rinascita. Ecco perché il governo deve far fronte a tutti gli incrementi di spesa dei comuni, a cominciare ovviamente dal diritto ai servizi. Grazie! Grazie a tutti.